Salve e bentornati a Incipit. Oggi parliamo di un libro che inizia una saga straordinaria, dove è stata fatta una serie pazzesca che ha avuto un successo mondiale incredibile. Parlo del Trono di Spade, di George Martin. Sì, proprio lui. Partiamo dal primo libro, naturalmente. Adesso raccontarvi le storie di Grande Inverno e di tutto quello che i nomi, le casate, eccetera, eccetera, diventerebbe troppo lungo qua. Però devo dire che in questo mondo raccontato nel Trono di Spade veramente c'è tutto il contrario di tutto. Si trovano anche i draghi. Insomma, è una saga veramente molto, molto, molto appassionante. Ma leggiamo l'Incipit. Le tenebre stavano avanzando. Meglio rientrare. Gared osservò i boschi attorno a loro farsi più oscuri. I bruti sono morti. Da quando hai paura dei morti? C'era l'accenno di un sorriso, sui lineamenti di Sir Weimar Royce. Gared non raccolse. Era un uomo in età, oltre i cinquanta, e di nobili ne aveva visti andare e venire molti. Ciò che è morto resta morto, disse, e noi non dovremmo averci niente a che fare. Che prova abbiamo che sono davvero morti? chiese Royce a bassa voce. Will li ha visti come prova a me basta. Will sapeva che prima o dopo l'avrebbero trascinato nella discussione. Aveva sperato che accadesse dopo piuttosto che prima. Mia madre diceva che i morti non parlano, si intromise. Davvero, Will? rispose Royce. È la stessa cosa che mi diceva la mia balia. Mai credere a quello che si sente vicino alle tette di una donna. C'è sempre da imparare, perfino dai morti. La foresta piena d'ombre rimandò echi della voce di Sir Weimar. Troppi echi, troppo forti e definiti. Ci aspetta una lunga cavalcata, insistì Gared. Otto giorni, forse nove, e sta calando la notte. Cala ogni giorno, quasi sempre a quest'ora. Sir Weimar alzò uno sguardo privo di interesse al cielo che imbruniva. Qualche problema con il buio, Gared? Will vide le labbra di Gared stringersi e la rabbia repressa a stento invadere i suoi occhi, visibili sotto lo spesso cappuccio nero del mantello. Gared aveva passato 40 anni nei guardiani della notte, la maggior parte della sua vita di ragazzo, tutta la sua vita di uomo, e non era abituato a essere preso con leggerezza. Ma questa volta, nel vecchio guerriero, c'era qualcosa di più dell'orgoglio ferito, una tensione nervosa che arrivava pericolosamente vicino alla paura. Will la percepiva, la sentiva. Forse perché lui stesso aveva paura. Era di guarnigione sulla barriera da quattro anni. La prima volta che l'avevano mandato sull'altro lato, tutte le antiche sinistre storie gli erano tornate alla mente come una valanga. Aveva sentito le viscere attorcigliarsi e il sangue andare in acqua. In seguito ne aveva riso. Era un veterano adesso con centinaia di pattugliamenti alle spalle. Per lui non c'erano più terrori in agguato nella sterminata estensione verde scuro che quelli del sud chiamavano la foresta stregata. O perlomeno non c'erano stati terrori fino a quella notte. C'era qualcosa di diverso quella notte, qualcosa che gli mandava brividi gelidi lungo la schiena. Le tenebre, la loro densità. Erano fuori da nove giorni e avevano cavalcato prima verso nord, poi verso nord-est, poi di nuovo verso nord, seguendo da vicino le tracce di una banda di bruti e allontanandosi sempre più dalla barriera. Ogni giorno era stato peggiore del precedente. E quel giorno era peggiore di tutti. Il vento gelido che soffiava da settentrione faceva oscillare e frusciare gli alberi della foresta come fossero dotati di una loro vitalità interna. Per l'intera giornata Will non era stato in grado di scacciare la sensazione di essere osservato da occhi implacabili, paralizzanti, carichi d'odio. Anche Gared aveva avuto la stessa sensazione. E adesso Will aveva un'unica idea in mente. Partire al galoppo sfrenato, tornare al più presto dietro la sicurezza della barriera. Ma non era un'idea da condividere con il comandante, specialmente con un comandante come quello. Come vedete l'atmosfera è abbastanza cupa e la cupezza è un po' il leitmotiv di tutta la saga del Trono di Spade. I libri non sempre sono aderenti come storia alla serie televisiva, anche se sono straordinarie tutte e due. Quindi vi invito alla lettura di Il Trono di Spade, cominciate con uno, poi se vi piace potete comprarne tanti altri, di George R. R. Martin. A presto. Ciao, sono Stefano Mondini e questo è il mio canale YouTube. Puoi iscriverti premendo il pulsante con sopra la mia faccia, così potrai sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblicherò. Inoltre sarei ben felice se tu commentassi e mi dessi suggerimenti. A presto.